Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di LG G3, uno smartphone che osa davvero tanto! Forse troppo? Andiamo a scoprirlo nella recensione! E sì, eccoci dunque in compagnia del nuovo top di gamma di LG per questo 2014. Io vi ricordo di andarvi a rivedere l'unboxing, metterò il link qui in una nota per tutte le caratteristiche tecniche, le dimensioni e il contenuto ovviamente della confezione. Io vi comincio a parlare proprio di dimensioni, di come si rispecchiano nell'uso quotidiano. Allora è grande, un 5.5 pollici nonostante le cornici davvero molto molto ridotte si sente. Ovviamente è meno grande degli altri 5.5 pollici, guadagna in ergonomia sulla concorrenza ma non sui top di gamma attuali di quest'anno che hanno comunque diagonali più ridotte e magari dimensioni anche un po' più contenute. Ma assolutamente molto molto leggero. I materiali che sono comunque plastici ma di buona qualità vanno a alleggerire il tutto in modo da non appesantire. Si tiene molto bene in tasca grazie alla forma stondata. E l'ergonomia anche nell'uso delle chiamate o comunque come vero e proprio telefono è buona. Si riesce a tenere bene in mano, è buono il grip ma non si può usare con una mano per tutti gli usi da smartphone vero e proprio. Materiali stavo parlando, allora molto bella questa finitura. Non così al tatto quanto alla vista, molto belli i tasti dietro che perdono il led di notifica qua attorno ma guadagnano la possibilità di poter appoggiare il telefono senza nessun tipo di protuberanza su qualsiasi piano. Vi parlavo della scocca che restituisce un'immagine davvero molto molto elegante e piacevole alla vista. Al tatto la plastica risulta comunque di buona qualità e molto bello anche il vetro che prende tutto il frontale. E' bella la finitura anche qui sulla parte posteriore pulita senza nessun tipo di tasto. Quindi un design che personalmente ho apprezzato davvero molto nonostante le dimensioni forse un filo eccessive. Parliamo di autonomia, la batteria è sempre da 3000 mAh però removibile come abbiamo visto nell'unboxing quindi non più fatta a scalino e non si è riuscito a raggiungere un amperaggio più alto di questi 3000 mAh che si rispiegono in un'autonomia che è solo buona diciamo che porta a cena ma penalizza un po' l'uso pesante. Con il mio uso sono arrivato a prima di cena purtroppo e vi faccio vedere già che ci siamo entrando nelle impostazioni al 74% nella batteria come siamo messi qui il menu relativo alla batteria intanto potete già vedere la nuova interfaccia di LG che andremo a esplorare meglio più avanti risparmio energetico non così aggressivo diciamo soliti accorgimenti per quanto riguarda la connettività e poco altro quindi batteria che si attesta comunque su un buon livello ma non eccezionale ma parliamo del pezzo forte parliamo di display come ho già detto la diagonale 5.5 pollici ma la risoluzione è un quad HD quindi 4 volte l'HD cioè i 720p si rispecchiano in un uso che assolutamente appaga la vista appaga l'occhio qui la nostra app di test io ve lo avvicino ma posso avvicinare quello che voglio posso anche incorporarla nella telecamera e mai riuscirete a vedere i pixel su questo display aspettiamo la messa a fuoco andiamo a vedere come riproduce i colori luminosità assolutamente buona si vede bene sotto il sole funziona bene il sensore di luminosità con l'unica pecca che quando la luminosità va automaticamente al minimo la regolazione fine con il cursore non funziona praticamente al minimo dobbiamo tenerla alla luminosità che vuole lui molto belli i bianchi altrettanto i grigi i neri si vedono benissimo visti frontalmente un buon punto di nero potete anche confrontare con la barra nera superiore l'angolo di visione è da IPS quindi se io vado a metterlo di taglio un po' ingrigisce adesso i riflessi non vi permetteranno di apprezzare questa sfumatura però fidatevi della mia parola che questo angolo di visione se vogliamo limitato si vede praticamente mai nell'uso quotidiano quindi comunque un display assolutamente eccezionale volevo ritornare un attimo nell'applicazione di testo scusatemi vi faccio vedere come riproduce le foto real world del mondo reale alziamo di nuovo la luminosità vi faccio vedere quanto sia bello il display andiamo a vedere guardate qua come si distinguono bene i fili d'erba guardate questa foto assolutamente nonostante le foto siano mappate probabilmente a risoluzione inferiore del display sono veramente riprodotti qua i rami degli alberi veramente eccezionale non so più che aggettivo usare per questo display una piccola menzione per quanto riguarda il quad hd molti dicono che è inutile in realtà non è così inutile complice all'interfaccia fatta apposta per sfruttare il quad hd con queste linee sottili che si vedono molto molto bene vi dico che i piccoli dettagli che si possono apprezzare sulle foto ma già che ci sono vi entro in galleria vi faccio vedere uno dei filmati che è precaricato da lg ovviamente la telecamera non riuscirà a restituirvi lo stesso dettaglio però vi dico che in queste particolari situazioni non nell'uso quotidiano ma in queste particolari situazioni la differenza tra il full hd e il quad hd si vede non è assolutamente vero che non vi sia differenza tra i due display bisogna avere un occhio molto allenato e per alcuni può risultare inutile vedere assolutamente certi dettagli diciamo che chi è miope non li vedrà però vi assicuro che anche in 5.5 pollici un po' di differenza si vede quindi lunga digressione sul display ma è ovviamente il pezzo forte di questo telefono andiamo a parlarvi di parte telefonica apriamo il dialer anche qua completamente ridisegnato chiamiamo il 119 c'è la ricerca rapida non c'è la possibilità della videochiamata standard alziamo il volume con i tasti dietro e accendiamo la mia voce allora viva voce assolutamente potente è uno dei pochi telefoni che non tengo al massimo neanche in massi in macchina scusate come viva voce perché si sente molto bene forse non tanto come qualità che è un pochino è piatta questo che è il gracchiamento che avete sentito è del risponditore non della qualità dell'autoparlante lo sentiremo meglio nella musica però vi dico che si sente davvero molto molto bene molto molto potente il volume di questo speaker posteriore da 1 watt dalla parte telefonica passiamo agli sms intanto una piccola menzione sulla ricezione che si ferma a livelli medio alti non è un mostro di ricezione ma non vi sono problemi particolari apriamo ora gli sms ovviamente è tutto ridisegnato ma abbiamo sempre la possibilità di zoomare nei campi di inserimento e anche negli elenchi degli sms proviamo a scrivere un nuovo messaggio allora come avete visto ho scritto una frase scusate ho dato un colpo alla telecamera senza volere come avete visto ho scritto una frase più lunga del solito perché questa tastiera è assolutamente eccezionale personalizzabile veloce precisa guardate quante sono le impostazioni relative alla tastiera se la mettiamo in landscape con un gesto possiamo dividere e aprire e chiudere la tastiera quindi assolutamente un ottimo lavoro per quanto riguarda la tastiera con i tasti prima funzione tasti personalizzabili impara da tutto quello che noi scriviamo abbiamo anche dei gesti rapidi come quella di poter fare uno swipe verso l'alto e abbiamo anche lo swipe classico uno swipe verso l'alto dicevo per inserire la parola che abbiamo qui nei suggerimenti davvero un plauso ad elegy per questa tastiera dopo gli sms usciamo ignoriamo il messaggio perché non ha un destinatario e parliamo di parte mail parte mail che assolutamente non ha problemi una piccola precisazione qui come potete vedere il pinch out c'è ma quando apriamo l'email non è visibile a tutto schermo dobbiamo fare noi il pinch out poco male usciamo non ci sono i gesti rapidi di KitKat purtroppo quindi un client mail che funziona bene ma che forse alcuni altri client parlo di quello del Nexus hanno qualche piccola chicca in più che questo non ha ma comunque non è così importante quindi buono anche il client mail passiamo ora alla parte browser apriamo il nostro browser che troviamo qui sotto andiamo sul nostro sito guardate davvero questa tastiera stupisce adesso l'ho aperto con Google ma poco male ci arriviamo da qua non mi ha preso il tocco ma colpa mia che ho cliccato dove non dovevo ok avete visto il tempo di caricamento nonostante la nostra rete ADSL non sia delle migliori cerchiamo di chiudere qualche banner no lasciamolo aperto non importa guardate il browser ha una buona navigazione forse potrebbe essere un filo più veloce andiamo ad aprire un articolo e torniamo nel nostro sito aspettiamo che si carichi l'articolo in questione ok andiamo a aspettare il caricamento di Discas gestore dei commenti del nostro sito ecco qui la rotellina che gira andiamo a scrivere vedete si posiziona correttamente anche qui non si notano cali di velocità rispetto agli sms non abbiamo problemi ad andare a spostarci dove vogliamo nell'applicazione quindi assolutamente una navigazione web è buona e andiamo a vedere su un sito ancora più pesante quello del corriere qui la modalità desktop che andiamo ad attivare speriamo che l'abbia presa perfetto si sta prendendo in modalità desktop ok il tempo di caricamento è ovviamente dettato dalla connessione io però vorrei farvi vedere come si muove il tutto davvero molto pesante la pagina del corriere andiamo a cercare di zoomare su un particolare il display fa in modo che la navigazione la nitidezza dei testi sia veramente eccezionale avete visto il doppio tap non rimpagina il testo ma fa lo zoom alla grandezza della pagina qui stiamo facendo un po' di movimenti per farvi vedere ecco qualche ricarico di troppo forse su questo browser che va ancora un attimino ottimizzato ma nessun problema poi nell'uso quotidiano usciamo dal browser andiamo a parlare di guardate anche qui un attimo di ricarico nella home che comunque risulta assolutamente nuova anche per LG andiamo a parlare di parte multimediale qui apriamo la fotocamera molto veloce il tempo di accensione vi faccio vedere qui i modi d'uso che non sono tantissimi ma sono quelli che servono qui la possibilità di mettere a fuoco parti differenze differente scusate delle immagini qui la possibilità di impostare anche l'HDR automatico la risoluzione della camera e dei video che possono essere girati in Ultra HD qua lo scatto vocale il timer è poco alto in realtà cliccando questo pulsante noi andiamo a nascondere tutte le impostazioni e ad attivare la funzione Quick Shot che praticamente permette intanto potete apprezzare la messa a fuoco laser davvero molto molto veloce e permette lo scatto semplicemente con il tap sul display vi parlavo di messa a fuoco quindi velocissimo il laser che va a mettere a fuoco l'immagine in ogni circostanza in ogni in ogni tipo di luce buio notte a lui non importa sì certo di notte un po' lo scatto rallenta ma davvero un'ottima parte della gestione della camera ma andiamo a vedere come sono gli scatti che fa questo G3 andiamo ad aprire sì partiamo subito dallo scatto in notturna molto potente il flash che ha illuminato fino a questa parte più o meno però poi se andiamo nelle parti buie ovviamente con solo questi lampioni ad illuminare troviamo parecchio rumore video interno qua completamente al buio solo il flash che illumina l'immagine risultato decisamente sufficiente anche in questo caso in esterni guardate qui i bordi che tra alberi e cielo come sono ben definiti non estante i soli tra virgolette 13 megapixel anche i dettagli si vedono molto bene assolutamente ottima la resa al sole di questa camera guardate questa macro non riesco a trovarci un difetto assolutamente quindi parte fotografica scusate direttamente assolutamente proposta direi anche negli scatti con poca luce davvero limitato il rumore rumore che come abbiamo visto si vede solo in esterno quando il flash non riesce a fare il suo lavoro e la luce è davvero davvero bassa ok messaggi che come potete vedere escono in pop up e permettono la risposta rapida ottima questa funzione di lg usciamo vi dico che il video viene girato bene ottimo l'audio acquisito trovate comunque le prove su youtube forse un pochino tendente al rosa il bilanciamento del bianco quindi parte fotografica assolutamente promossa ho fatto un tap di troppo volevo rimanere nella galleria per farvi vedere innanzitutto le impostazioni della galleria qua sono tante le possibilità che vengono offerte abbiamo anche la possibilità del crowd di settare degli album predefiniti un nuovo album qua se entriamo in una galleria in una delle cartelle possiamo realizzare anche un collage una presentazione comunque galleria ridisegnata è davvero assolutamente pratica per questo lg3 ma andiamo nei nostri fermati di test cosa legge cosa non legge legge tutto legge tutto senza problemi guardate il 1080p guardate i colori anche qua della mongolfiera come vengono riprodotti bene guardate qua assolutamente nessun problema legge i dvx anche il nostro dvx con audio formato ac3 viene riprodotto e viene riprodotto anche l'audio a nessuno piace giocare sentite e ovviamente nessun problema anche per l'mkav che vi faccio vedere solo per dovere di cronaca molto molto velocemente assolutamente eccezionale il lettore video il lettore multimediale di lg come sempre adesso parliamo di parte gaming non ho trovato sul play store real racing 3 non so se per la risoluzione dello schermo o per la provenienza estera del telefono non lo so forse per una combinazione di tutto ma ho scaricato asphalto 8 che può fare egregiamente il suo lavoro per quanto riguarda la parte gaming aspettiamo il caricamento intanto vi dico che questo display rende assolutamente bene anche nel no non voglio imparare a guidare ok apriamo la prima gara che troviamo va bene questa macchina iniziamo la gara vi alzo il volume così potrete apprezzare a pieno tutta la multimedialità di questo lg3 dato vi dico che sta scaldando qua attorno alla fotocamera notevolmente con l'uso pesante ok schippiamo un po' di introduzioni e partiamo arriviamo a schiantarci contro la montagna non siamo riusciti a far partire l'animazione ovviamente ecco fatto come vedete non vi sono particolari problemi forse la fluidità non è delle migliori ma assolutamente non vi sono problemi nel gioco uscita cattiva aspettiamo che si ricarichi un po' la home come potete vedere qualcosina ancora da ottimizzare per quanto riguarda il reparto software reparto software che andiamo ad esplorare partiamo dalle impostazioni divise in tab ma possiamo anche visualizzarle con l'elenco qui quelle relative alle reti qui quelle relative alla parte suono qui quelle relative al display dove abbiamo anche la possibilità di personalizzare i tasti anteriori senza però il tasto menu che troviamo ovviamente replicati nei classici tre pallini di android sfondo possiamo anche selezionare la easy home che abbiamo visto sugli ultimi LG vari temi scaricabili dall'LG Word tante le parti relative al display che vi faccio vedere come sono divise abbiamo anche lo smart screen per non far spegnere il display scusatemi la possibilità di personalizzare il led di notifica andiamo in quelle generali che forse sono quelle più interessanti queste le poche impostazioni per l'utilizzo con una mano i tasti di scelta rapida per poter attivare la fotocamera o il Q-memo direttamente dallo stand by con i tasti posteriori le opzioni di movimento che permettono queste possibilità grazie al sensore frontali e la possibilità del dual windows che permette di splittare lo schermo in due lo andiamo a vedere tra breve andiamo a vedere quant'è la memoria disponibile sulla versione da 16 giga abbiamo anche la possibilità di espandere con la SD e l'USB on the go che possiamo utilizzare con qualsiasi chiavetta che abbiamo testato per quanto riguarda la batteria ve ne ho già parlato lo smart cleaning è molto interessante serve per farci vedere che cosa possiamo ottimizzare della gestione del nostro smartphone la possibilità dei messaggi il backup e ripristino classico e dalle informazioni sul telefono possiamo andare a vedere come la versione del software sia la 4.4.2 con kernel 3.4 parliamo comunque un po' di home di questo LG andiamo a vedere come vi sono le gesture di LG che vanno a modificare tutte le impostazioni qui le classiche possibilità di personalizzazione con le app e i widget e gli sfondi qui a sinistra la parte con LG che cos'è un contapassi integrato nel telefono dove possiamo andare a settare potete vedere molte impostazioni qui quello che possiamo scegliere il tipo di esercizio tutto quello che possiamo fare il percorso che abbiamo fatto durante il giorno dovremo tenere il GPS attivo e questo influenzerà non poco la batteria nessun problema con i wearable qua i consigli di LG su come usare il nostro smartphone per quanto riguarda le cartelle vedete sono personalizzabili rotonde alla dimensione minima e adesso ho preso ovviamente una tappata ecco vedete quadrate se andiamo a cambiare la dimensione è un po' incongruente questa alternanza tra tondi e quadrati nelle icone però insomma niente di trascendentale ottima la possibilità di ricercare un'applicazione direttamente dal drawer un'interfaccia che comunque per come è stata disegnata da LG ci è piaciuta davvero molto svecchia un po' la classica interfaccia fa in modo che tutto sia pratico e veloce e va a sfruttare l'altissima definizione del display ovviamente rimane il doppio tap per accendere e spegnere il display intanto guardate i collegamenti rapidi sulla lock screen che funziona molto molto bene è difficile che perda dei tocchi in questo G3 il doppio tap abbiamo anche il no code quello per poter impostare un pattern scusate di tap che sappiamo solo noi per poter sbloccare il telefono senza nessun problema funziona bene anche la parte del sensore infrarossi una cosa non vi ho fatto vedere nella fotocamera e me ne scuso che è la camera frontale con le relative ottimizzazioni che LG ha creato per essa abbiamo la possibilità di scattare un selfie facendo questo gesto con la mano la possibilità di attivare un flash virtuale che va con questa schermata bianca di illuminare il nostro viso anche in situazioni di di luce scarsa qui la bellezza volto ormai presente su quasi tutti i modelli e qua le impostazioni relative alla camera frontale e ai video fatti con la camera frontale che sono in full HD vi dico che comunque le foto vengono abbastanza bene non ho esempi qua da farvi vedere le troverete poi nella recensione di cui avete il link qui sotto in descrizione per quanto riguarda lo scatto dalla camera frontale vi stavo ancora parlando di gestione della home entriamo nel multitasking guardate quanto abbiamo lasciato aperto proviamo a fare un cancello a tutto e ad attivare il dual windows che permette di attivare due applicazioni in contemporanea vedete ad esempio il browser e youtube di sotto questo permette di visualizzare le due applicazioni con la classica finestra sdoppiata senza particolari problemi qua queste sono le impostazioni fondamentalmente del multi windows vi ho fatto vedere anche i tasti questo che forse non saprete che cos'è serve per tirare su e giù la tendina delle notifiche io lo trovo comunque molto comodo poi andrò a vedere che cosa riguarderà il tag di facebook per quanto riguarda l'ottimizzazione diciamo che nell'uso quotidiano se non lo si stressa come sto facendo io adesso non abbiamo particolari problemi ma qualche piccolo rallentamento parlare di lag è forse troppo però qualche animazione poco fluida l'abbiamo trovata quindi non sappiamo se questo è dovuto alla combinazione potenza del processore contro tanti tanti pixel da gestire oppure forse una piccola mancanza di ottimizzazione per questa nuova interfaccia che trova su questo G3 proprio la sua prima versione continuando a parlare di home vi faccio vedere questo interessante widget che ti consiglia come ottimizzare il nostro smartphone e ci dà consigli sul tempo qui dice che mi devo portare un ombrello pomeriggio nonostante dalla finestra ci sia un bel sole altra novità di questo LG qua le impostazioni relative a questo widget guardate quante cose può notificarci cosa dire quindi di questo LG G3 assolutamente le dimensioni sono forse l'unico problema si poteva rimanere attorno ai 5 pollici secondo me per quanto riguarda la definizione soprattutto abbinata alla diagonale si è fondamentalmente inutile nella maggior parte dei casi ma l'effetto wow di quando andiamo a riprodurre determinati contenuti è assolutamente scontato con questo display forse troppe lodi per questo display ma decisamente se le merita peccato la batteria non così performante parliamo di prezzi 599 la versione da 2 giga di ram che abbiamo testato in questa prova 649 quella con 3 giga questo abbinato al 16 giga di memoria e a 32 giga di memoria rispettivamente per le versioni di questo G3 però come abbiamo visto è espandibile forse si ci può accontentare della versione con 2 di ram e con 16 di memoria risparmiando anche qualcosina tanti passi avanti ottima la fotocamera come avete visto se volete un 5.5 pollici questo smartphone assolutamente rispecchierà tutte le vostre aspettative questo quindi direi che è tutto per questo G3 io vi ringrazio per aver seguito il video come al solito vi invito a mettere il mi piace al video se secondo voi è venuto bene iscrivetevi al canale mi raccomando per adesso è tutto un saluto da Alessio Cina non è vero ci stavamo dimenticando una cosa importantissima cioè la musica c'è la radio FM che funziona bene andiamo a avviare il nostro brano di test ribadisco l'assoluta potenza e il volume altissimo di questo di questo altoparlante la qualità si attesta su un valore medio alto vi stavo vi stavo quindi salutando adesso è davvero tutto un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it a